ciao a tutti come promesso subito dopo il video con i nuovi stampi in gomma siliconica sempre fatte con la gomma siliconica della resin pro che tra l'altro voglio assolutamente ricomprare perché ho un sacco di creazioni da riprodurre fedelmente sono carichissima bene cominciamo subito come potete vedere questa volta oltre ai bicchierini ho utilizzato dei tagliapasta di quelle che si usano per il biscotto per il fimo che ne ho ritrovati in giro per la camera con il trasloco e allora ho pensato di utilizzarli per farli da forme quindi avrò degli stampi di forme stranissime però mi erano più comodi perché il bicchierino si è comodo però fare tutto l'ambaradana di fare tutta la bisciolina è un po una rottura di balle quindi più facile con questi fate la pimpongo comunque la plastilina piatta gli infilate dentro è andata a premere il tagliabiscotti ed è più comodo non dovete fare la bisciolina e direi di partire partiamo prima da questo che è più piccolo che voglio vedere cosa salta fuori e voilà peccato che abbia strabordato paurosamente che sta da rifinire proprio tantissimo e forse un po leggerino vediamo dai ok qualcosa si è inglobato che schifo è voilà teschetto lucidissimo anche questo è rimasto un po macchiato dal pongo forse questo ma perché era un po che gli ho fatti e sono rimasti lì in posa forse troppo qua devo togliere tutta la comma dalla creazione ok un teschetto semplice singolo abbiamo anche questo pongo probabilmente tutti questi stampi un po saranno macchiati da e qua una delle mie ultime forme preferite tra il gatto seduto che bello come questo ve l'avevo detto che avrei fatto poi gatti creazioni coi gatti a vita cioè questo era semplice da fare da riprodurre cioè non c'erano tante imperfezioni e frastagliate da poter sbagliare quindi cioè buchi non ce n'è solito pulizia sui lati nel frattempo la mia camera da sul cortile interno del palazzo c'è la gente che mi guarda malissimo quando passa ma faccio finta di niente non alzo gli occhi ok direi che il gatto è meravigliosamente tenuto bene questo qua grande ho utilizzato sempre la plastica che teneva gli stampi quelli a forma di farfalla che poi non sono a forma di farfalla sono a forma di fiore sono quelli semplici del cake design non so cosa stessi pensando qua è rimasto tutto tutto il pongo saldato cosa sarà mai questo enorme cosa macchia storta tra l'altro è venuta da tanta 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 devi staccarti c'è molta gomma passata sotto qua e bamba chissà ho un grosso problema con questa non si stacca devo aver sbagliato qualcosa ma no c'è anche gli altri sono con la stessa gomma siliconica niente ahimè sono passati almeno dieci minuti io questa creazione non riesco a toglierla assolutamente dallo stampo cioè o si è inglobato troppo bene perché era una di quelle rose enormi tutta puntinata con i brillantini faccio sapere cos'era no mi sto facendo male gliela dosso mi sa che questo finirà nel bidone del rusco così completo di gomma sintonica e cabochon quindi ok passiamo a quelli natalizi così per chiamarli almeno per la forma esterna passiamo partiamo con lui ahimè ne spingere sono uscite anche le creazioni dall'altra parte servono così c'è lui che è molto molto piccolo e frastagliato qua forse gli occhietti sono venuti due bolle ah no sono in fuori da rivedere comunque anche questo è un po da rifilare poi c'è lui che è più semplice ed è così ed è così tutto da ripulire devo ammettere che la forma a pupazzo di neve è veramente molto ignorante passiamo all'alberello sicuramente l'involucro più comodo per fare poi uscire lo stampo è la sui bicchierini è quello poco ma sicuro abbiamo un altro piccolo baymax che vediamo questo sia venuto un po un po meglio carino mi rimane sempre sotto far rastagliato addirittura sono attaccati dei glitter e questo carino che sono le fragoline con le panna con la panna se prima avevo fatto lo stampo quello grande con la panna adesso ho fatto quello piccolino con le fragole con la panna era venuto troppo bene quello con la panna per non rifarlo o riprovare a farlo carino anche questo un po strane lo sto facendo un po particolare per avere un po di varietà perlomeno passiamo a questo qua col cuore però qua vi so già dire che ne ho messo poco perché? perché si intravede la creazione qui uff questo l'ho fatto basso vediamo se almeno l'altra metà si riesce a recuperare perché anche questo è uno stampo da due creazioni la rosellina che è leggerissimo però effettivamente si intravede sarebbe lei e questo bellissimo ciondolo con la torre Eiffel questo è molto bello ci sta anche nello stampo come abbinamento poi nella peggiore dell'ipotesi ti taglia qua e si tiene solo questo è molto molto fine sì mi piace ok direi che anche per questo video finito qua gli stampi direi che questo lascia un po' a desiderare perché adesso vedeva di litigarci un altro po' per farlo venire fuori perché questa cosa che non mi sia venuto fuori mi snerva abbastanza e quindi niente spero che il video vi sia piaciuto lasciatemi un sacco di like e un sacco di commenti sotto questo video con questo vi saluto e vi mando un bacio e alla prossima ciao ciao